Bibiena senza acqua potabile per altre 48 ore, ad informare la cittadinanza e nuove acque con un comunicato stampa. Dopo lo sversamento di letame nei pressi del Campo Pozzi-Lechiane di sabato scorso, al Comune occorreranno altre 48 ore per avere risultati definitivi e certi che possano permettere la revoca dell'ordinanza. Nuove acque è ininterrottamente al lavoro, di concerto con l'amministrazione comunale e l'ASL per monitorare questa vera e propria emergenza. Attualmente l'approvvigionamento di Bibiena avviene al Campo Pozzi-Orti-Palazzetti e dall'Acquedotto-Lagressa che non sono stati interessati dallo sversamento. Intanto è partita una seconda comunicazione di aggiornamento ai cittadini tramite il servizio di SMS gratuito gestito da nuove acque. Ci preme sottolineare, dicono dall'azienda, che questo è il metodo più efficace per raggiungere tempestivamente e rapidamente i nostri utenti, specie in casi come questo in cui è necessario un contatto veloce e diretto. Facciamo un appello a tutti gli interessati quindi a mettere a nostra disposizione il proprio cellulare. Basta semplicemente comunicare il numero alle nostre agenzie sul territorio, al nostro call center che risponde al numero verde 800 39 17 39 oppure andando sul sito www.nuoveacque.it nella pagina denominata Click Acqua.